Cari normoragionanti, qualche giorno fa un monaco eremita ha scritto a Marco Tosatti dicendo ah ma qui non si capisce niente, il Papa si è impedito, se è vero Papa, Bergoglio eccetera eccetera l'unica cosa per avere la sicurezza, non è mica il diritto canonico, no, non è il diritto canonico l'unica cosa per averne la certezza è sapere se Benedetto celebrava la messa in unione con Papa Francesco e allora è arrivata, è arrivata puntuale la risposta di Saverio Gaeta che scrive Ciao Marco, per rispondere alle domande del monaco eremita è sufficiente leggere quanto affermato da Monsignor Genswain a pagina 233 del libro Nient'altro che la verità, riguardo al tempo di Benedetto come Papa Emerito ha sempre celebrato la Santa Messa durante la settimana in italiano, domenica e latino utilizzando il messale romano di Paolo VI e pronunciando ovviamente la preghiera eucaristica con l'esplicita menzione della comunione con il Papa regnante Francesco come possono testimoniare tutti quelli che hanno concelebrato con lui, cordialmente Saverio e beh, chi dubiterebbe di Saverio Gaeta naturalmente che ha scritto questo libro che guarda caso Monsignor Genswain voleva ritirare ecco, caro Gaeta, perché non ci spieghi come mai Monsignor Genswain voleva ritirarlo questo libro? ci puoi spiegare anche perché il pdf del libro è stato diffuso a spaglio via social tanto che l'hanno ricevuto persino da comuni lettori, come mai? questo pdf che viene diffuso contro l'interesse degli autori e dell'editore diversi giorni prima dell'uscita in cartaceo poi Monsignor Genswain lo vuole ritirare, come mai? come mai lo vuole ritirare? l'editore si rifiuta, va avanti e l'operazione procede ma vedete, lo stesso blog di Marco Tosatti qualche tempo fa aveva pubblicato una smentita di Monsignor Genswain alla famosa lettera che fu inviata a Domi Nutella dove si diceva quanto segue il Papa Emerito ha sempre celebrato la Santa Messa in unione con il nostro Papa Francesco il suo successore al quale ha promesso pubblicamente devota e incondizionata obbedienza sul blog di Marco Tosatti viene ripresa la notizia da cat.net cari amici e nemici di Stiluncurie mi sembra importante offrire la vostra attenzione nella mia traduzione questo breve articolo della collega Petra Lorleberg che ringraziamo di cuore per la cortesia su cat.net Monsignor Genswain risponde a una domanda di Petra Lorleberg su questa lettera ricevuta da Domi Nutella scrive, dichiara Monsignor Genswain sono lieto di rispondere alla sua richiesta e confermezza la lettera è un falso e una menzogna fake news pure semplici fake news pure semplici allora che vuol dire? se la lettera era un falso d'accordo l'abbiamo scoperto tanto che il pdf era stato redatto con una licenza word a nome di Ariel Stefano Levi di Gualdo presbitero come sapete e Don Ariel non ha affatto smentito di essere lui stesso di essere stato lui stesso l'autore di questa falsa lettera con la firma falsificata di Monsignor Genswain eccetera ma i contenuti di questa lettera che sono una menzogna una pura pura fake news pura che vuol dire? che non c'è niente di vero quali sono questi contenuti della lettera? il Papa Emerito è addolorato nell'apprendere che dei presbiteri celebrano la messa in unione con Papa Benedetto il Papa Emerito ha sempre celebrato la messa in unione con Papa Francesco al quale ha promesso pubblicamente devota e incondizionata reverenza che non è vero perché la devota e incondizionata obbedienza lui la promette al suo successore cioè anche a quel Papa che sarà scelto nel collegio cardinalizio che sarà il suo impeditore gliela promette il 28 di febbraio nel saluto di congedo ai cardinali lei è in grave errore come prova la pena della dimissione dallo Stato clericale che l'è stata erogata quindi anche questa è una menzogna è una pura fake news perché a Domino Nutella non è stato erogato niente perché nulla di quanto fatto dalla Chiesa antipapale è valido e non è neanche vero che la Chiesa molto raramente infligge questa dimissione dallo Stato clericale perché lo stesso Papa Benedetto ha spretato 400 preti pedofili quindi è un condensato di menzogne di fake news e giustamente Monsignor Genswain le smentisce tutte quindi io chiedo a Gaeta mi sa dire per quale motivo Monsignor Genswain voleva ritirare questo volume? Lei lo sa che Papa Benedetto era in sede impedita e quindi in sede impedita non si può comunicare liberamente e quindi sia Papa Benedetto che Monsignor Genswain dovevano comunicare restrizione mentale larga? Tra l'altro volendo andare più indietro nel tempo quando Monsignor Genswain fu interrogato da un prete bergogliano che gli chiese ma Papa Benedetto in unione con chi celebra la messa? Lui se Gaeta ha ragione se Gaeta ha ragione doveva rispondere Papa Benedetto celebra la messa in unione con Papa Francesco questa era la la soluzione più opere e invece che cosa diceva Monsignor Genswain nell'ottobre del che anno era? 21 o 22 non mi ricordo forse il 22 dice Papa Benedetto non ha mai menzionato nessun altro nome nel canone della messa non ha mai nominato se stesso nel canone perché tutto questo giro di parole? Semplice perché il Papa celebra la messa in unione con se stesso indegno servo del Signore si fanno nomi non si fanno nomi ecco certo con un quintale e mezzo di malafede uno potrebbe anche voler sostenere che questo giro di parole intende Papa Benedetto non ha mai menzionato nessun altro nome oltre a quello di Francesco nel canone della messa e quindi non ha mai nominato se stesso nel canone certo poi ne risponderete davanti a Gesù Cristo sostenendo un'aberrazione del genere ma diciamo in termini logici potrebbe anche significare questo ma quando Monsignor Genswain dice che la lettera falsa a Don Minutella è una pura fake news una menzogna si riferisce anche al contenuto e quindi Papa Benedetto celebrava in unione con se stesso indegno serbo evidentemente nient'altro che la verità è stato manipolato per questo Monsignor Genswain voleva ritirarlo ed è stata un'operazione fatta per tentare di screditare il sottoscritto dato che c'è un paragrafo ridicolo non so chi l'avrà scritto questo qualche funzionario bergogliano in cui si dice che Munus e Ministerium sono sinonimi ora Monsignor Genswain è canonista insegnava diritto canonico a una pontificia a un'università il fatto che lui sostenga che Munus e Ministerium sono sinonimi è qualcosa che fa ridere i polli fa ridere i polli ecco interessante che lo stesso Marco Tosatti che oggi anche lui mi fa la guerra tempo fa avesse pubblicato questa smentita di Monsignor Genswain tipico effetto Razziger grazie un caro saluto a tutti e un saluto a Saverio Gaeta e a chi gli crede di Monsignor Genswain a Saverio Genswain a Saverio Genswain